ciao a tutti bentornati nel mio canale e nel caso siate utenti nuovi benvenuti youtube è come un enorme calderone sempre in fermento in continua ebollizione fatti divertenti drammatici dissing soprattutto la terza di cui uno spera di non esserne mai il protagonista questo soprattutto per quanto riguarda gli altri e perché questo tipo di cose a me non mi è mai successo mai mai entrata in queste situazioni di dissing e quant'altro ecco lasciamo perdere bypassiamo queste tristezze tra virgolette e andiamo a scandagliare quello che è successo ultimamente su youtube ora a raccontare per intero tutte quelle che rappresentano le novità e gli accadimenti ultimi su youtube sto blog dovrebbe durare tipo un mese e non mi sembra proprio il caso dunque abbiamo chiara che continua il suo trasloco tra una politica politica boh riproviamo allora dunque abbiamo chiara che continua il suo trasloco tra una polemica e l'altra mentre un altro fatto che ha scosso molto youtube è stato il fatto che chi quanto perché la chiusura del canale della dama nera però comunque ne ha aperto subito un altro ed ha ricominciato allegramente come se nulla fosse però perché c'è sempre un però anche il tempo di riprenderci dallo shock della chiusura del canale della dama nera da parte di youtube scusate youtube che arriva a un altro intervento nefasto da parte di youtube con la chiusura di un altro canale sto parlando del canale di sandro l'interista per caso ps lo vedi robbie che quando parlo di una persona specifica io i nomi li faccio ma se faccio un discorso generalizzato è normale che non faccia i nomi perché comunque cerco di indirizzare il concetto ad una massa più ampia e non a un solo soggetto che ho detto ho dovuto riascoltare quello che avevo detto in precedenza due secondi fa comunque si è comprensibile quindi che stavamo a dire perché robbie mi ha distratta stavamo a dire che youtube è arrivata in perterrita ed ha chiuso il canale di sandro l'interista per caso allora quali erano i contenuti basilari di del canale di sandro allora prevalentemente le canzoni da smul e delle live che conduceva trasmetteva come volete di meglio dite prevalentemente il sabato sera però il perché il per come credo che youtube comunque quando decide di chiudere un canale credo che all'amministratore di quel canale dia più di una spiegazione perché non è che chiude dei canali così ora per il discorso segnalazioni leggo molto spesso che gli utenti sono straconvinti che segnalare un contenuto o un canale stesso equivalga a destinare quel canale alla chiusura per direttissima niente di più sbagliato invece cosa avviene avviene che se un utente o più utenti segnalano un contenuto o un canale youtube cosa fa prende in esame queste segnalazioni soprattutto se sono tante segnalazioni indirizzate allo stesso contenuto allo stesso canale e va ad analizzare il contenuto segnalato nel caso in cui durante il controllo va a riscontrare delle violazioni a seconda della gravità delle violazioni effettuate interviene ammonendo o nei casi più gravi addirittura chiudendo quel canale come è stato per la dama che è chiuso un canale ne ha aperto un altro e a gran voce ha fatto poi le dovute spiegazioni alla sua fascia d'utenza stessa cosa vale per sandro che ha fatto sentire la sua voce e soprattutto il suo risentimento tramite un nuovo canale altra cosa basilare che va spiegata ma bene ti oggi sembro sembro la maestra di youtube vabbè torniamo a noi altra cosa che va bene spiegata è il fatto che se io da io chi io gossip faccio una segnalazione ad un canale non è che ho il potere di chiudere quel canale cosa succede youtube va ad analizzare la mia segnalazione se riscontra che la mia segnalazione ha un fondamento allora ammonisce quel canale quali sono le motivazioni principali per cui un canale viene ammonito sono per la maggiore delle violazioni che possono essere magari violazione del copyright violazione della privacy bullismo anche il fatto di ricaricare sul proprio canale dei pezzi o per intero live o video di altri canali anche questo risulta una violazione quindi solo nel caso che la segnalazione abbia fondamento solo in quel caso youtube ammonisce o addirittura chiude il canale non è che sia colpa della persona che ha segnalato più che altro la responsabilità è di chi compie queste violazioni cioè non è che tu te la puoi andare a prendere con la persona che ti ha segnalato perché magari tu hai condiviso un video di quella persona e giustamente quella persona si risente e ti segnala il contenuto poi non è che ti possa lamentare perché comunque quando uno apre un canale sa benissimo ora a grandi linee quali sono le regole e quindi un po di cose le abbiamo spiegate potuto di canali youtube ne chiuderà tanti non è che sia questo il grande problema però più che altro credo che se fosse capitata a me una cosa del genere che youtube mi avesse chiuso il canale per delle violazioni io avrei colto questa opportunità di un nuovo inizio cambiando completamente il palinsesto del del mio canale dato che quello precedente se è stato segnalato addirittura chiuso il canale vuol dire che tanto bene non andava quindi accoglierei questa opportunità mi aprirei a nuovi contenuti nuove prospettive progetti diversi totalmente diversi da quelli che erano in precedenza però ragazzi ovviamente quando una persona si si proietta più su quelle che sono delle dinamiche personali no magari racconti leggeri le visualizzazioni non equivalgono alle stesse che si possono comunque tranquillamente fare dissando qualcuno no perché comunque sappiamo benissimo che il dissing tira e tira anche tanto io dissi nel mio canale non ne ho mai fatto se c'è stato qualche video un po più colorito è stato solamente per per difesa perché comunque magari ne avevo ricevuti 6 7 video live contro a una certa raga uno poi per quanto puoi fingere no per quanto puoi come si dice non mi sovviene al termine ecco per quanto puoi glissare no su determinate spiacevoli situazioni arriva il momento che poi uno si rompe le palle a una certa mettiamo in chiaro le cose anche perché molto spesso ti attaccano su cose inesistenti allora lì uno dice che cavolo cioè ma attaccassi tu su un qualcosa di costruttivo non lo so magari sui contenuti sul modo di esposizione ci starebbe pure perché avendo un canale pubblico ragazzi siamo soggetti a critiche ed opinioni ma quando tu mi vieni a fare dei riferimenti magari che sono relativi alla mia vita privata che io poi non riporto neanche sul tubo e io dico e che cazzo la risposta è sì anche noi accademici diciamo le parolacce ho creduto opportuno anticiparmi anzitempo perché già so che mi porrete questo quesito beh la risposta è sì anche gli accademici usano nel loro lessico quotidiano qualche parolaccia però però tranquilla una parolaccia così tranquilla e ora non mi venite a fare gli scandalizzati perché proprio eh che poi a dirla tutta questo tipo di parolacce non è neanche farina del mio sacco a me le parolacce le insegnano Katia e Luisa to l'ho detta tutta però mi raccomando voi a loro non dite niente perché sicuramente ne granno ma dopo questa mi uccidono ma magari fossero tutte brave persone come la Katia e la Luisa ora io cito loro perché con loro un rapporto anche in privato da da lungo tempo soprattutto con Luisa che oramai diciamo che mi sopporta da da più di un anno solo per questo la la dovrebbero fare santa martire beata ora lei quando sentirà questa parte mi riferisco a Luisa quando sentirà questa parte no del vlog già lo so che scriverà sotto ma cosa dici tu sei una persona così brava così per bene io non ho visto mai nella mia vita una persona angelica quant'altro e io no Luisa no mi sto commuovendo dai non scrivere così poi mi toccherà farti un video ringraziamento ma su via dai oddio sto a rite come una pazza oggi ho dovuto fare 300 milioni di tagli spero che il discorso si sia capito perché tra un taglio e l'altro poi comunque si perdono dei passaggi fondamentali ora io questo vlog lo vorrei far durare tipo 30 40 50 2 ore ma chi se ne frega tanto è gratis qualcosa tipo maratona vlog però non so che riscontro avrebbe sulla fascia di utenza se è un qualcosa di positivo o se scapperebbero tutti e resterei con tre iscritti io Katia e Luisa beh vedi c'è da valutare l'idea perché comunque tanto malaccio non sarebbe anzi no piccola rettifica loro quando ascoltiranno quella parte inerente alle parolacce se ne andranno anche loro allora praticamente resto io da sola ecco mi metto a fare i monologhi ecco mi metto tipo come Mussolini al balconcino lì e inizio a fare i miei monologhi tanto non ti interrompe nessuno vai lì ti fa il tuo monologo mattutino soddisfazione plena e madonna che tristezza vabbè va credo che vi ho vessato abbastanza 11 minuti e passa di vlog e quindi cari buona continuazione di giornata a tutti per chi va a lavorare per chi sta a scuola per chi sta a fare faccende domestiche chi si sta a fare i cazzi suoi che quella poi è la cosa migliore di tutte io vi do appuntamento al prossimo contenuto che non so manchi io di cosa si tratta possiamo tranquillamente dire che sarà una sorpresa per tutti insomma bacio a tutti da gossip